Misteri, vendette, amori, intrighi e segreti. Tutto questo è i Beati Paoli, l'opera di Luigi Natoli che approda per la prima volta in versione integrale sul palcoscenico sabato 13 novembre alle ore 21 presso il Teatro Don Bosco Ranchibile di Palermo per la regia di Giuseppe Bongiorno della compagnia teatrale Araldo del Vespro. Non è una rivisitazione, non è uno spettacolo basato su o ispirato a ma è proprio una rielaborazione anche riconosciuta dalla CIA a livello nazionale. Lo abbiamo creato e messo in scena proprio perché è la prima volta che tutto lo spettacolo, tutto il romanzo dei Beati Paoli viene messo in scena a livello teatrale. Che mito volete sfatare? Più che mito delle voci che corrono attraverso questo romanzo in cui si dice che il romanzo dei Beati Paoli non sia altro che la Bibbia e la nascita della mafia. Non è assolutamente questo, Luigi Natoli non voleva scrivere nulla sulla mafia, a quei tempi non gli fregava nulla della mafia e lui ha voluto solo ed esclusivamente raccontare la storia di una città e di un quartiere soprattutto, il quartiere capo. Raccontando proprio questa leggenda dei Beati Paoli e noi metteremo in scena i Beati Paoli con la visione del popolo, cioè perché il popolo ha reso questi uomini leggendari. Un romanzo ed una rappresentazione corale dalle tinte scure dove ogni attore si fa portavoce di diversi ideali. Lo spettacolo ha delle tinte scure, naturalmente per evitare di dare sempre il solito sapore alla vicenda abbiamo tagliato un po' con delle parti comiche, però sì, diciamo che a livello attoriale ci saranno delle performance di carattere forte, qui ci saranno immagini che lasceranno veramente il cuore palpitare, diciamo così, niente di leggero, non è di sicuro uno spettacolo leggero. Ci saranno in scena vari ideali, soprattutto l'ideale della giustizia che ricalca molto questo spettacolo. Giustizia che però comunque viene vista da vari punti di vista, cioè ognuno dei personaggi vede gli altri come delle pedine, più che altro, considera la propria giustizia, il proprio punto di vista. E questo, diciamo, è un po' pericoloso, si vedrà nello spettacolo, questa mancanza, diciamo, di empatia e di come il mio ideale di giustizia può creare dei danni verso un altro punto di vista, verso un'altra persona. I costumi e le scenografie dello spettacolo I Beati Paoli sono realizzati dalla compagnia teatrale Araldo del Vespro e rispecchiano lo stile e la moda settecentesca. Si potranno ammirare lo stile francese, ma anche quello spagnolo, con un tocco di modernità. In scena anche le coreografie eseguite sulle note della voce di Rosa Balistreri. I suoi brani, infatti, accompagneranno i movimenti più salienti della trama, rendendoli ancora più emozionanti. Lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19. Gli spazi al Teatro Don Bosco Ranchibile, che accoglieranno il pubblico e il palcoscenico, verranno periodicamente sanificati e sono allestiti secondo le regole del distanziamento sociale.